ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball 2 sempre in compagnia di Chirito, ovviamente il secondo Chirito per favore, due profili, uno con cui ho finito il gioco e non avevo un po' la vermidia e ora con questo profilo ho continuato la parte dove ero interrotto, ho portato un po' il video con la vermidia e devo fare dei ringraziamenti particolari innanzitutto a ecco Boyduke per avermi suggerito l'acquisto di questo grandissimo hardware eliturissimo, tra l'altro che sto provando anche per lui e lo ringrazio infinitamente e spero che riesca anche lui il più presto possibile ad averne, ad averne, e il secondo ringraziamento è per il fatto che siamo arrivati a 94 ragazzi, siamo in 94 spero che mi piacciono sempre i miei video, consigliatemi cosa portare e come portare i video e io nel mio limite umano possibile ed economico soprattutto cercherò di portarvi sempre cose al meglio ora parliamo con Trunks come va? sembra che ci siano variazioni nella storia da segnalare ah non ci tiene anche Toa e gli anni sono piuttosto tranquilli per ora non sa cosa stanno trovando è una cosa sospetta pensavo di andare a dare un'occhiata alla camera del tempo, vuoi venire con me? ovvio sono qui per questo bene, allora andiamo eccoci qua è stato tranquillo lì lì, è troppo tranquillo è troppo tranquillo io normalmente piace cose tranquilli ma questo mi fa nervoso magari dovremmo fare attenzione forse dovremmo fare qualcosa ma cosa? uh, what sort of action? eh, un bel tipo un tipo? un tipo? stavo pensando a quel Saiyan mascherato didn't he turn out to be Bardock? unlike the others non riesco proprio a immaginarmi Bardock che ti colabora con me non riesco proprio a immaginarmi Bardock che ti colabora con me devo essere sincera there was something about him avevo un'aria strana almost like he was under mind control mind control? so you'd think that if we free him he might join our side? exactly and if he still has his memories of when they did this to him he should be able to tell us their plans but how in the world do we go about finding him? if we find out when Bardock vanished Toa and Mira should be there too then that's what we'll do sappiamo cosa fare let's get to it mettiamoci all'opera today's work will be an investigation I'll be tagging along with you io verrò con te oh, finalmente un aiuto let's head on out forza, andiamo forza, andiamo forza, andiamo andiamo come ti ti trasporti, Trunks raiser Ah, ah 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 Eh, ho provato. Era. Non si sa quale. Va bene. Sembra che abbiano usato un numero per catturare Bardock. Ma che è questo posto, in ogni caso? Questa è questo, comunque. Mi ricorda di terra, ma è tutto in romina. Eccola qua, Towa. Mmm, bella topona parola, eh? Bardock, l'uomo mascherato. Sconfiggi tutti i nemici. Eccolo, io. Cosa? 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 Non è già che tui la gale Non è che tui testati Non ti sei che devi stare a Chi Chi si è scioglatta di te O lei Ah, che ti sono Tony, quant'vi fatti ? Ah, questo momento sarà già Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! I will overcome it, and tonight shall make it my own! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! What the... Bardock? I can't... I can't shake him off! How is he so strong? Don't! Don't! How can... How can someone so weak... Overpower me? How dare you make a fool of me? This time... It's not about the Saiyans... Even... My son Kakarot! I'm here for payback! Never underestimate a Saiyans power! Get ready! How could I... How could I... The likes of you! How could I... How could I... How could I... How could I... To be sure? The next time... We will... I will... I will... Up to the... To... commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima ragazzi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale cliccando la miniatura che trovate qui al centro e se volete vedere gli episodi precedenti cliccate sulla miniatura qui a sinistra e a destra troverete la mia guida per sbloccare i personaggi del roster ciao belli